Per motivi di sicurezza, ora io e Jasmine andiamo a aprire le casse, i polisteroli diciamo con le famiglie e ci allontaniamo immediatamente perché come dicevo sono un po' nervose durante, sono state tutta la notte chiuse e stamattina non sono potuta andare a bottinare quindi sono un pochino nervosette. Dopodiché loro le ave che faranno? Andando in volo si vedrà le ave che saliranno in alto e quello serve per orientarsi, andando a fare dei cerchi intorno alla cassa e posizionandosi davanti alla propria casa per guardare, memorizzare quell'immagine e memorizzare pure l'ambiente in modo che poi loro sanno dove tornare, una volta che si orientano sanno dove tornare. Ora andiamo, staremo lontani, sarà lontano la persona che ci riprende in modo che sia in sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.